Nel corso della settimana i carabinieri del NIL, Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa, unitamente alla personale dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno svolto una serie di controlli presso diversi cantieri edili e attività commerciali della provincia. Dall'azione di verifica è emerso come ci siano ancora datori di lavoro che non ottempirino pienamente alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o che impieghino dipendenti in nero. I militari dell'arma hanno infatti verificato come in un cantiere edile di Scicli vi fossero una serie di violazioni alle misure di sicurezza di transito delle persone sui ponteggi, così come i cavi elettrici che li attraversavano non fossero adeguatamente protetti. Per le mancanze rilevate è stato sanzionato l'amministratore dell'impresa edile ed è stato adottato il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale. Stesso provvedimento adottato anche nei confronti di un panificio di Modica dove è stato trovato un lavoratore impiegato in nero di una ristorante di Marina di Ragusa dove i lavoratori in nero accertati sono stati due e di una gelateria di Pozzallo dove uno dei dipendenti era stato impiegato in nero. La sospensione dell'attività imprenditoriale è un provvedimento che avrà effetto solo nel caso in cui i datori di lavoro non provvedano al pagamento delle relative sanzioni elevate per le violazioni in materia di sicurezza e per l'impiego della mano d'opera in nero. Complessivamente sono state controllate 31 posizioni lavorative di cui 4 risultate come detto irregolari e contestate sanzioni amministrative per un valore complessivo di quasi 22.000 euro.